E allora partiamo proprio da qui dal parere dei tifosi e che tifoso che abbiamo come sempre con noi stasera in collegamento, sempre un piacere avere il presidente del club Napoli Monte di Procida, Domenico Mazzella, ciao Domenico, bentrovato. Buonasera a tutti e forza Napoli. Arrivata la sconfitta con la Juventus, venerdì scorso avevamo detto che era quasi un'occasione da non perdere, visto il momento della Juventus dopo i recenti risultati, purtroppo è arrivato un KO che comunque non rovina assolutamente i piani del Napoli in ottica Champions, però relativamente ai 90 minuti dello Stadium, che cos'è che non ha funzionato secondo te? Forse è stato regalato il primo tempo ai bianconeri? Allora, ovviamente io vi parlo dal mio punto di vista, ovviamente come ho visto io la gara. bisogna innanzitutto dire che è stato fatto fuori rosa Pirlo, in che senso tu mi dirai? Perché da quello che abbiamo visto dagli 11 schierati la formazione l'hanno fatta Buffon e Chiellini, quindi ciò vuol dire che attualmente Pirlo già non è più l'allenatore della Juve. Me l'aspettavo questo commento da te. Io sono schietto e sincero, almeno per come vedo le cose. Credo che in tanti, forse chi segue un pochettino il calcio la pensa come me, però lasciamo stare. Hanno giocato di esperienza, erano molto, molto, molto compatti ed uniti al sacrificio. Tutti questi senatori sapevano bene che se la Juve non entra in Champions è un crollo totale, a differenza di quello che potrebbe accadere a Napoli. Cioè per loro sarebbe un crack finanziario veramente grosso. Il primo tempo l'abbiamo regalato, sì l'abbiamo regalato e credo anche un po' il secondo, perché vedere un Lorenzo Insigne che mi sembra più il terzino del Napoli che un giocatore che faccia parte dell'attacco, diciamo, è veramente molto, molto deludente, riduttivo. Io non posso vedere una squadra che gioca con il calciatore che può essere quello che può superare l'uomo, quello che può dare più fastidio alla difesa che parte da prima del centrocampo. Quindi lì un pochettino non so se era problema di Insigne che voleva la palla e quindi andava dietro per prendersela oppure è stato detto dall'allenatore. Questo non lo sappiamo. Un po' di cambi non mi sono piaciuti perché io quando vedo Demme che è disponibile e lo fai uscire non lo so perché poi avrei, ovviamente lo si dice dopo, però avrei preferito vedere dal primo minuto Politano, questo l'ho detto già nelle passate settimane, e poi dopo l'ingresso di Lozzano perché quando i giocatori di fascia sono già un po' più stanchi Lozzano può fare la differenza. Poi ci sono scuole di pensiero, quelle che dicono Mertens prima oppure Osimane prima. Io li vorrei vedere tutti e due, ovviamente dopo lì si cambia modulo, lasciamo stare. Dopo è sempre molto facile parlare sicuramente. Domenico c'è un altro dato che vorrei analizzare un po' con te perché ricorderai che prima di queste ultime due gare il Napoli aveva giocato in trasferta con Milan e Roma e oltre ai sei punti pesantissimi erano arrivate anche due porte inviolate che era anche un ottimo segnale in vista del finale di campionato, cosa che invece non è accaduta proprio negli ultimi 180 minuti perché sono arrivati tre gol presi col Crotone, altri due con la Juventus, cinque in due partite. Allora secondo te è un trend preoccupante, sono solo casi isolati? Dov'è la verità? Ma io i tre gol del Crotone non mi pesano tanto, pure perché forse dopo il 2-0 il Napoli ha ammollato veramente tanto, ha pensato che stava giocando una partita tra scapoli ammogliati e quindi ovviamente lì ha prevalso poi la voglia di mostrarsi degli attaccanti del Crotone. Quindi lì non li vedo. Per quanto riguarda i gol presi con la Juve, un Di Bala che veramente quest'anno non si era ancora visto. Se gli lasci la mattonella il piede c'è, non avrà forse la forza ma quei gol lì ne ha fatti secondo me decine ne ha fatti Di Bala. La scelta della difesa a me piaceva tanto, cioè pure far giocare Rachmani titolare mi ha fatto piacere. Ti dico, guarda, sempre col senno di poi avrei visto Mario Rui dall'inizio, che forse poteva dare un pochettino di fastidio di più a Chiesa. Gli hanno fatto fare veramente... è bravo, è forte e questo ci fa piacere in ottica nazionale. Però gli hanno fatto fare veramente tanto. Sì, non soltanto il momento d'oro che sta vivendo Chiesa, poi se gli lascia anche spaccio diventa davvero devastante. Mi ha chiesto la parola Elena per farti una domanda, Domenico. Sì, buonasera Domenico. Ti volevo chiedere, tornando ovviamente alla gara con la Juve, non si è ancora capito perché in occasione del fallo Tanti l'arbitro non si è stato chiamato a rivedere l'attene al monitor, visto che era un chiaro ed evidente errore. Come può migliorare il secondo rispetto dell'azione del barriaco? Lei mi deve scusare Elena, ma forse ho avuto un po' di problemi con l'audio. C'è stato qualche problema di audio, ma mi sembra di aver intuito la domanda relativa al fallo di Aleksandr Suzielinski e tra l'altro io chiedo alla regia, dovremmo avere anche il fermo immagine dell'intervento in area proprio Suzielinski. Certo, è esatto, eccolo qui. La perplessità è perché non richiamare l'arbitro a bordo campo a rivedere le immagini? Il regolamento dice che soltanto in caso di chiaro ed evidente errore il direttore di gara va a visionare le immagini, ma caro Domenico mi viene da dire se non è chiaro ed evidente errore questo qual è? Mi viene da ridere perché ricorderai, no? Io feci quella battuta dicendo che quando noi segniamo anche da 200 metri vedono se il vento è in purigioco. Figurati un pochettino se contro la Juve, cioè non voglio scendere nel logico, nel ridicolo al dire la Juve, gli arbitri, però ragazzi che bisogna dire più? C'era un arbitro giovane, Mariani, che comunque è un buon arbitro. Al VAR secondo me erano veramente scarsi, ma veramente scarsi, perché io credo che bisognava vedere addirittura pure il primo fallo, quello lì che ha fatto Lozzano, che poi dopo si va a vedere fuori gioco e tante altre cose, non viene dato con quel rigore, però comunque secondo me sono azioni che bisogna guardare. Se c'è un VAR queste azioni sono così eclatanti che bisogna guardare, bisogna vedere. Ma ti dico, l'arbitro è stato pure lì a pensarci sul rigore che ha dato al Napoli, eh? Ah, è vero, è vero. E quello pure a... cioè che vogliamo... Eh sì, sì, vabbè, lasciamo... Io sono un punto che bisogna... Scusami, scusami, bisognerebbe applicare quello che si sta provando cioè nel poter chiamare una, due volte il VAR da parte degli allenatori delle panchine. Sì, se è certamente un'idea innovativa che potrebbe essere introdotta dalla prossima stagione, davvero niente male, direi, visto che la mentele purtroppo ce ne sono anche in un'epoca tecnologica come questa. Parlando di singoli, invece, Domenico, ormai Osiman ha messo da parte, ha messo alle spalle i problemi fisici, il Covid, insomma, tante difficoltà che ha avuto in questo inizio di avventura al Napoli, però, diciamo, ha trovato il gol col Crotone da due passi, è un po' venuto a mancare la sua esuberanza contro la Juventus. Allora ti chiedo, tu che ormai, come tanti altri tifosi del Napoli, hai imparato a conoscere le qualità del ragazzo, quanto è migliorabile in prospettiva, cioè quanto è grande il margine di miglioramento di Osiman, se credi che possa diventare quel bomber da 20-25 gol che il Napoli ha avuto spesso di recente in rosa tra Higuain, Mertens, Cavani. Insomma, Osiman, l'investimento che è stato fatto è stato molto, molto importante, è attualmente l'acquisto più caro nella storia del club, e allora viene da chiedersi quando potrà dare quell'apporto in termini di gol. Allora, abbiamo parlato di grandi attaccanti, per me il più grande di quelli che tu hai nominato è Cavani, perché Cavani veramente ha fatto tanto, tanto, tanto. Pensando a Osiman, la mente ci porta a pensare a quello che ha fatto Lozano due anni fa e quello che ha fatto l'anno scorso e quello che ha fatto quest'anno. Quindi diciamo che il ragazzo ovviamente viene da una realtà completamente diversa dalla Serie A, è molto giovane. Non mi è dispiaciuto Domingo quando è entrato, perché comunque quelle palle lunghe che lui comunque ha sempre preso, lasciamo stare che poi cade troppo facilmente, è un po' deboluccio. Però comunque ha creato tanto, non credo che... non ti saprei dire se può fare il bomber futuro del Napoli, però è una pedina comunque da coltivare e da tenere, visti i soldi che sono stati spesi che di sicuro adesso non potrai mai prendere, no? In questo momento. Quindi io direi, approfittando poi di questo fine campionato, di dargli un pochettino più di fiducia, almeno per farlo crescere, perché altrimenti ti trovi poi un investimento oltre che sbagliato, ma poi una plusvalenza che non potrai mai fare, ma nemmeno rientrare della metà di come sta giocando ora, no? Certo, hai fatto bene a citare Lozano in questo caso, perché la pazienza mai, come nel caso del messicano, è stata d'oro, perché da Ancelotti a Gattuso il rendimento è stato praticamente opposto e quindi è giusto avere pazienza con lui, anche se certo i tifosi visti i soldi investiti per il suo cartellino si aspetterebbero da subito, no? Ha un impatto molto importante, però ricordiamo anche che quando è arrivato Simena a Napoli, la prima cosa che hanno detto Gattuso e De Laurentiis, non vi aspettate da subito un attaccante da 20 gol, ma uno più da manovra, no? Che sappia anche favorire l'inserimento dei compagni, in effetti, di quello che sta accadendo, problemi a parte. Guardando un po' la classifica, caro Domenico, adesso parte la Roma che si è un po' distaccata dopo gli ultimi risultati, abbiamo dalla seconda alla sesta, ovvero dai 60 punti del Milan ai potenziali 55 della Lazio nel caso battesse il Torino nel recupero, di fatto abbiamo quattro squadre in cinque punti. Allora, visti anche il momento di forma delle squadre, il calendario che avranno le singole squadre, perché ricordiamo che il Napoli dopo la Samp ha Inter e Lazio di fila in quattro giorni, quindi probabilmente quello sarà il momento decisivo della stagione in ottica Champions. In questo momento, secondo te, dando per scontato che l'Inter arriva al primo posto, quali sono le tre favorite per entrare in zona Champions? Allora, metterei di sicuro al secondo posto l'Atalanta, perché ormai non è più un qualcosa che è che accade, la squadra è forte, la squadra c'è e secondo me arriva seconda. Come dicevo qualche giorno fa, la corsa la bisogna farla sul Milan, perché la chance per noi di mettere fuori la Juve l'abbiamo sprecata, ma comunque siamo lì, siamo a tre punti, possiamo tranquillamente prenderci pure il terzo posto volendo, diciamo, va. Perché no? La corsa è questa qui, bisogna farla sul Milan e provare a buttare fuori il Milan, perché è l'unica... Ripeto, la Lazio non credo che possa darci tanto fastidio, pure perché poi dopo queste due partite di Lazio e Inter, almeno il calendario sembra abbastanza favorevole, no? In discesa, certo. Gli altri hanno gli scontri diretti, quindi diciamo che è tutto nelle nostre mani. Domenico, domenica arriva la Sampdoria, o meglio il Napoli va a far visita alla Sampdoria, la Sampdoria degli ex, verrebbe da dire, perché oltre a Tonelli, lì davanti la coppia d'attacco, Quagliarella-Gabbiadini, li conosciamo benissimo, e allora ti chiedo che sensazioni hai verso questa partita? Le sensazioni sono quelle di vedere un Quagliarella che ogni volta che gioca contro il Napoli è sempre un grande calciatore e mostra sempre la metà degli anni che ha, è fortissimo, l'abbiamo visto anche domenica, è quello che ci fa più paura, però dai, la rosa del Napoli penso che sia nettamente superiore, e poi la voglia, la voglia che deve crescere in questi calciatori in vista della volata Champions, non credo che ci siano le motivazioni giuste della Sampdoria di vincere, oppure, secondo me si può vincere, si deve vincere, altrimenti noi parliamo di chi abbiamo paura, di chi è, e poi dopo se pensiamo di perdere i punti a Genova contro una Sampdoria che praticamente diciamo salva, dai. Assolutamente, sì. Non penso che poi, dai, io credo che sia una partita da vedere alle tre del pomeriggio tranquillamente. Con un esito che ci auguriamo tutti. Un esito positivo. Domenico, per chiudere il capitolo su Dries Mertens e su Osimène, ricordiamo che Mertens, c'è stato anche il tweet celebrativo del Napoli, proprio in occasione della gara col Crotone, ha toccato quota 350 presenze col Napoli in tutte le competizioni. Tra l'altro, di queste, 255 in Serie A, è arrivato al settimo posto e anche superato, Cagli e Hon, al settimo posto tra i più presenti in campionato nella sfera del club. Mertens, che ricorderai, l'anno scorso è arrivato quasi a fine contratto, poi c'è stato il rinnovo, la dichiarazione d'amore sui social, con un video splendido che tirava in ballo la città e i tifosi, però diciamo che ad oggi Mertens ha il contratto in scadenza nel 2022, considerato anche quanto è un simbolo per questa squadra, il rischio, a questo punto piuttosto fondato, è che da gennaio dell'anno prossimo possa già accordarsi con qualsiasi altro club, cosa che in effetti era già successa nel 2020. Allora ti chiedo, secondo te che ruolo può avere Mertens nel Napoli a stretto giro di posta già dalla prossima stagione e se ritieni che lui sia disposto ad accettare un ruolo un po' più marginale per dare maggior spazio a Usimene, che inevitabilmente avrà maggior spazio perché dall'anno prossimo senza Covid, senza speriamo infortuni, avrà un minutaggio molto più ampio, quindi giocherà molto di più rispetto a Mertens che quindi avrà probabilmente a questo punto un ruolo un po' più marginale. Allora secondo te il belga è disposto per amore della maglia ad accettare questo ruolo? Allora io mi chiederei più se è disposto per amore della moglie a restare al Napoli perché a casa mia comanda mia moglie e quindi credo che a parte l'amore di Mertens che dimostra ogni tweet che fa, qualsiasi cosa fa parla di Napoli, nemmeno un napoletano parla così di Napoli, quindi credo che sia super innamorato della città, della gente e credo che resti. La signora Mertens mi piace tantissimo restare a Napoli, quindi credo i contratti a Napoli sono sempre molto complicati. Questo è il tweet celebrativo delle 350 presenze di Mertens sul traguardo storico che sarà destinato a essere migliorato nelle prossime settimane, prego. Per quanto riguarda i contratti ci abbiamo in signa, in scadenza e non sappiamo se rinnovano o meno, figurati per dirti, quindi questo non mi meraviglia più, cioè la società ha questo modo di fare che ci porta sempre ad avere ansia, sempre ad avere preoccupazioni che non ci entrano nulla con il campo, non vuole questo brutto vizio perché secondo me è una brutta cosa. Lasciamo stare forse le parole che ci sono tra il presidente e i calciatori, però io se non vedo nero su bianco non credo a nulla. Io sono convinto che comunque Mertens resti a Napoli, anche l'anno prossimo firmando un contratto che sia vicino alla società, credo, perché è troppo innamorato di questa città. E ce l'auguriamo anche per il ricordo affettivo ormai che ha lasciato nel cuore di tutti i tifosi, non soltanto poi dal punto di vista tecnico. Domenico io ti ringrazio come sempre per il tuo intervento in questo venerdì sera con Dios, l'appuntamento, se vorrai, è per la prossima settimana, nel frattempo speriamo che possano arrivare questi tre punti con la Sampdoria e poi ci avvieremo verso questo rush decisivo con Inter e Lazio. Grazie sempre a voi, è sempre un piacere essere il vostro ospite, vi ringrazio nuovamente, forza Napoli, grazie Diego, a presto, alla prossima settimana. Grazie, buona serata, ciao. Domenico Mazzella salutiamo il presidente del club Napoli Monte di Procida.